Questo è un altro aspetto rasserenante della natura. La sua immensa bellezza è lì per tutti. Nessuno, diceva Tiziano Terzani, può pensare di portarsi a casa un'alba o un tramonto. Noi però lo possiamo catturare con gli occhi e le immagini, in un nuovo episodio di 10.000 passi nella bellezza. Ad accompagnarci nei territori del Parco del Delta del Po è Alexandra Boero, giornalista e autrice di Icarus, che ci ha raccontato tanti territori dietro alla scrivania. Ora ha deciso anche di scoprirli da vicino, attraverso la passione per il fit walking. Le valli di Argenta sono tra le più vaste zone umide ed acqua dolce dell'Italia settentrionale, circa 1.600 ettari, riconosciute di interesse internazionale ai sensi della Convenzione Ramsar nel 1976. Sono anche la sesta stazione del Parco del Delta del Po dell'Emilia-Romagna.